Internet è la morte della cultura. Ma un poeta deve saper vivere nel proprio tempo. Che fai? Apri la rubrica La depressione corre sul web? E la gentaglia! Sto per fare il mio primo unboxing. Una forma di intrattenimento leggero molto in voga. Fermoli! Albain! Scossa! Macabro sta facendo un video di unboxing! Unboxing! No! Scappare tutti gli iscritti! Dillo! Ma magari non sarà un vero disastro. Vero? I fail fanno un sacco di visualizzazioni. Queste parole sono pugnalate per il mio animo sensibile. Che sta per diventare super coccoloso! Nell'unboxing di oggi vedremo cosa c'è dentro Henry Pover e la camera dei depressi. Un capolavoro della letteratura fanta malinconica. Un unboxing senza scatola. Le premesse sono promettenti. In fondo è il primo unboxing di un libro. Stiamo facendo la storia del web! Iniziamo dal packaging. 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 Ottimi materiali. Rilegatura professionale. Profumo di carta appena stampata. E ora apriamolo. Chissà cosa ci sarà dentro. Oh! Pagine! Chi l'avrebbe mai detto? Dentro ci sono draghi avviliti. Tragiche battaglie all'ultimo sangue. Mestizia e la ricerca di un uomo della sua amata rapita da un perfido stregone. Sembra appassionante! Un ottimo consiglio di lettura. No, quando alla fine non scopre che è stata tragicamente trasformata in un comodino. Ma ora sapete il finale! E questo era il primo video de... Gli spoiler di Macabro! Non perdete il prossimo episodio! E cosa? Volete ancora OPS? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere il prossimo video. Oppure no. Tanto la vita è solo una triste marcia verso... Macabro! Stai di nuovo deprimendo gli spettatori? Io? Deprimere? Nooo!